Ciao a tutti! Oggi prepareremo il cappuccino al contrario dal Gona Coffee. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti circa. Gli ingredienti sono caffè solubile, zucchero, acqua tiepida, latte e cubetti di ghiaccio. Andiamo via alla ricetta! Iniziamo la ricetta posizionando la farfalla sulle lame. Mettere lo zucchero, il caffè solubile e l'acqua. Ed azionare il bimbi per 5 minuti a velocità 4, senza misurino. Iniziamo. La crema è pronta, componiamo il cappuccino, mettere in un bicchiere i cubetti di ghiaccio Versare il latte E mettere la crema Se lo gradite, spolverizzate con del cacao Cappuccino al contrario o dal gonacoffee Grazie e alla prossima ricetta Grazie 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 Grazie